Musica Guardate, hanno scritto delle stupidaggini enormi, delle stupidaggini pericolosissime come la questione degli albi. Sapete, l'avete capito bene, ma fatelo capire tutti i colleghi delle scuole, l'albo territoriale e quello regionale significa che gradualmente saremo privati del diritto al nostro posto. Anche qui c'è in titolo quinto del lavoro il bellissimo codice civile che dice che un lavoratore, un lavoratore qualsiasi, ha diritto di non essere spostato dalla sede dove lavora. Non dice il contratto di lavoro a scuola, dice il vecchio codice civile, ma qui sono ignoranti perché sono privi delle conoscenze ricardini del diritto e vogliono trasformarci in mano d'opera flessibile e possibilmente a basso costo. Noi non dobbiamo in nessun modo accettare questa deriva, cari colleghi. Dobbiamo essere in tanti a scioperare, a manifestare e vi posso dire una cosa in concludo. Se sarà necessario questo sciopero non deve essere la conclusione di un periodo di doffa, ma deve essere l'inizio al posto di arrivare a scioperare anche nel periodo degli sottini.